L'Air Palace Hotel è una struttura di 89 camere ampie e luminose, isolate acusticamente e dotate di ogni comfort. Lo stile moderno, l'atmosfera accogliente, la cura dei particolari, la professionalità del personale e le moderne tecnologie come il Wi-Fi gratuito, Sky Vision Gold in tutte le camere e un'ampia area parcheggio interna con garage, ne fanno un albergo di prestigio, meta ambita di compagnie aeree e squadre di calcio. Il ristorante Icaro offre accanto ai piatti della tradizione piemontese la più raffinata cucina internazionale, ma anche veloci e leggere colazioni di lavoro. Particolare attenzione viene dedicata alla ricca carta dei vini. Il ristorante è chiuso il sabato a pranzo e la domenica tutto il giorno. Rimane aperto in occasione di ricevimenti e banchetti personalizzati. La zona congressuale permette lo svolgimento di meeting e conferenze con una capienza da 10 a 250 partecipanti. L'area fitness, dotata di piscina coperta, locale sauna, doccia solare, idromassaggio e una palestra fornita di attrezzature TechnoGym, vi regalerà un momento di relax dopo la giornata di lavoro. Grazie a tutti!